Prima di iniziare con tutti i news ragazzi vi ricordo di fare un salto su Eneba Cos'è Eneba? E' un sito dove potrete trovare un sacco di videogiochi a prezzo scontato E per voi che sicuramente giocate a Fortnite potrete trovare anche tutti i codici fumetti Bundle anche che non sono presenti in oshop a prezzo scontato E' veramente infinita la lista quindi potrete trovarci un po' di tutto anche ovviamente i V-Bucks eccetera Link ovviamente in descrizione basta che cliccate quel link e vi porto subito sul sito di Eneba Dove potrete sia fare acquisti ovviamente inerenti a Fortnite ma anche ovviamente altri videogiochi ripeto tutti a prezzo scontato Comunque velocissimamente come si fa ovviamente a prendere un oggetto Prendiamo ad esempio questo se voi schiacciate compra ora vi porterà in una schermata ovviamente scegliete il vostro metodo di pagamento E come possiamo vedere qua vi danno già tutte indicazioni se può essere scattato in Europa, quale piattaforma lo può riscattare E il codice vi verrà ragazzi inviato via email che vi chiederà ovviamente appena farete l'acquisto Quindi mi raccomando link in descrizione Ragazzi bentornati in quest'unissimo video io sono Cecchinato e oggi siamo qui in un nuovissimo video ovviamente Inerente a Fortnite per parlare di novità molto importanti Innanzitutto un teaser di Donald Mustard parecchio curioso dopo lo andiamo a vedere Insieme poi a un recap di tutte le ricompense che possiamo ottenere attualmente o in futuro nei prossimi giorni Prima iniziare solito like mi raccomando iscrizione al canale con campanellina Detto questo direi che possiamo subito passare allo shop di oggi Shop di oggi eccolo qui comunque ragazzi è arrivato innanzitutto il bundle di Naomi Osaka Poi è arrivato anche il bundle Rappimento Alieno Abbiamo anche il bundle luce al neon e poi insomma dei oggetti giornalieri Abbiamo ancora ovviamente tutti e quanti i set della Marvel Compreso ovviamente poi anche nella sezione qua se non sbaglio il bundle insomma di Thor eccetera Detto questo fatemi sapere se prenderete qualcosa Mi raccomando vi ricordo già che parliamo in shop anche che ogni giorno se ovviamente non c'è il video Potrete trovare nella zona shorts mi raccomando non quindi dei video ma zona shorts Perché YouTube adesso li ha cambiati di posizione insomma lo avrete sicuramente notato Ma nella sezione shorts troverete le previsioni dei shop futuri Quindi le skin che dovrebbero arrivare o il giorno dopo o nei giorni successivi Quindi mi raccomando datele sempre un'occhiata In tal caso non escano video o magari a volte anche se esce il video potrebbero insomma arrivare Partiamo quindi subitissimo innanzitutto con questa news Sembra che questa skin che vedete alla mia destra Dei sondaggi ovviamente Sia attualmente in lavorazione Tra le altre cose c'è anche proprio una schermata di caricamento Licata con l'ultima patch dove si intravede bene o male questa skin Che ha in mano come possiamo vedere Una chitarra La schermata di caricamento si chiama una serata fuori E probabilmente quindi questa skin arriverà con un prossimo aggiornamento poi nel negozio oggetti Passiamo poi a Donald Muscle Perché infatti su Twitter è uscito un probabile teaser Infatti ha innanzitutto cambiato la sua posizione E la sua foto profilo su Twitter La posizione l'ha cambiata da realtà sconosciuta Sconosciuta scusate A l'oceano blu E adesso vi metto anche un'altra immagine Ha pubblicato infatti anche un video come possiamo vedere Che in questo video c'è semplicemente il video dove mostra il mare insomma E potrebbe ragazzi trattarsi di un teaser per qualcosa che accadrà Ad un certo punto nel corso di questa stagione su Fortnite Quindi ovviamente per il momento non abbiamo nessun leak Che possa far capire qualcosa Ma potrebbe essere qualcosa ecco che magari succederà Inerente ad un oceano blu Se avete chiaramente idee qua sotto nei commenti fatele E detto questo passiamo ad un'altra news Sulla collaborazione ragazzi Con Dead Space Infatti con l'ultima patch abbiamo visto bene o male chi è il personaggio Quindi non sto qui a farvelo rivedere Però il set dovrebbe essere composto da un piccone Chiamato taglierina al plasma Poi abbiamo lo zaino che sarà pure reattivo Ha una barra della vita e varierà in base alla salute che hai attualmente Figata sta roba E poi c'è un altro backpack reattivo blu base e rosso Quando si subiscono danni Molto carino come bundle Sembrerebbe intanto poi la skin sarà disponibile insieme Quindi ovviamente a tutto Il suo bundle con l'esattezza il 24 gennaio Quindi oramai tra pochi giorni avremo tutto l'intero set In collaborazione ovviamente acquistabile Nello shop Credo il tutto si aggiri Se ovviamente vuoi prendere l'intero set Sui 2000 qualcosa V-Bucks Sarà ovviamente comunque scontato Direi che possiamo poi andare a vedere le ricompense gratis Facciamo un velocissimo recap Per le ricompense che potete ottenere insomma tramite tornei Sfide eccetera La prima viene proprio da dei completamenti Per quello che riguarda gli incarichi Infatti completando ragazzi la parte 2 Delle sfide giurati Otterrete questa schermata di caricamento Che ritrae praticamente a nostra lobby Che conosciamo già benissimo Poi c'è ancora un'altra ricompensa Un'altra schermata di caricamento Per tutti coloro che avevano completato le sfide paradiso Una stagione 4 Capitolo 3 Riceveranno questa schermata di caricamento Ovviamente al primo accesso Peno male queste due ricompense Comunque le avevano già viste nel recap della patch Ma ve le ricordo E passiamo però adesso alle ricompense Delle FNCS Che infatti sono anche queste Liccate Ve le mostro esattamente qui alla mia destra Ci sono spray Schermata di caricamento E banner Come si ottengono ovviamente Sempre la solita storia Quindi bisogna andare su Twitch Collegare l'account Epic E ovviamente guardare circa mezz'oretta Di live con i drop attivi Non appena ovviamente sarà disponibile E otterrete tutte quante ricompense Compreso ovviamente il backpack Delle FNCS Che abbiamo già visto anche quello E poi questi ragazzi sono 3 spray Che verranno consegnati gratuitamente Con l'arrivo di nuovi tornei Che attualmente ovviamente Devono essere ancora liccati Però ovviamente come ben sappiamo Questi sono i tipici spray Che danno o nelle coppe console Tipo della Playstation Che se fai tot punti Puoi ricevere l'emoticon O lo spray Insomma queste robe qui Quindi saranno tutti spray Dedicati insomma a dei tornei Quindi devi far tot punti Per ottenerli Quindi queste sono le ricompense in arrivo E che sono già arrivate Fatemi sapere se le prendete Detto questo subito un bel like Iscrizione E noi ci vediamo ovviamente domani Sempre qui alle ore 16 Con nuovissimi video Bella